Salve a tutti carissimi cinefile, carissime cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di un film franco-canadese del 2008, scritto e diretto dal regista Pascal Logier, che ritorna su questo canale dopo che vi avevo portato il video su Ghostland, La Casa delle Bambole, film pregevole, insomma molto interessante, e l'opera in questione di oggi è Martyrs. Premetto che farò degli spoiler, quindi se non volete sapere nulla in anticipo, tornate in un secondo momento. Vi consiglio comunque la visione del film, anche se non è facile, nel senso che la pellicola è un horror molto crudo, molto forte, molto pesante. La violenza qui non è assolutamente edulcorata, non ci sono scene gore messe a caso, non c'è la voglia di esagerare, non c'è la voglia di esorcizzare un bel niente. Il film è veramente molto cupo, non c'è un filo di ironia, ed è proprio questo che rende le scene di violenza così viscerali, così potenti. Il film non è bassa macelleria, non stiamo parlando assolutamente di un brutto torture porn, stiamo parlando di un body horror, assolutamente, che è veramente cupo, è veramente serio, è veramente tremendo, e per questo disturbante, molto molto disturbante. Perciò se magari siete molto sensibili, non avete lo stomaco forte, posso capire che magari cercherete di evitare la visione di questo film. Vi avverto, non è semplice, non è assolutamente facile vederlo, però merita, quindi a voi la scelta. Se lo guarderete, poi fatemi sapere con un commento sotto. Bene, detto ciò, passiamo a parlare un attimino del film. Allora, la pellicola inizialmente si presenta appunto come un torture porn, come può essere un, per esempio, Hostel, e l'ambientazione effettivamente all'inizio ricorda molto Hostel, perché vediamo questa giovane ragazzina di nome Lucy che scappa da questo edificio fatiscente, riesce a sottrarsi alla prigionia che durava da tipo un anno, lei era stata rapita, era stata portata in questo ex mattatoio, o meglio, ha continuato ad essere un mattatoio, visto che la gente che veniva portata lì era torturata, o quantomeno lei è stata torturata, riesce a fuggire per riprendersi dal trauma, anche, insomma, instaura questa amicizia con una sua coetanea di nome Anna, e dopo, mi sembra, 15 anni, le ragazze sono ovviamente cresciute, Lucy riesce a ritrovare i suoi carcerieri e li fa fuori tutti, compresi i figli della coppia di 16 torturatori. Fa quindi una strage, tra l'altro il figlio della coppia di torturatori è un giovane Xavier Dolan, che al tempo faceva ancora l'attore, e poi nel 2009 ebbe anche lui il suo esordio dietro la macchina d'appresa, e tra l'altro, poveraccio, in questo film, subisce una sorte veramente atroce, perché, insomma, viene sparato in petto con una doppietta che è brandita appunto dalla furente e vendicativa Lucy. Comunque, avviene questa mattanza, a seguito della quale subentra poi il personaggio di Anna, che è interpretata da Morgiana Laoui, molto brava, molto convincente, anche Milène Jean Panouin nella parte di Lucy è stata veramente credibile, perché, insomma, il personaggio di Lucy è veramente devastato, un personaggio molto, molto lacerato. Purtroppo l'esperienza che ha passato in quel mattatoio, le mani dei suoi torturatori è qualcosa che l'ha segnata a vita, che l'ha traumatizzata, e questo trauma ha preso la forma di questa figura mostruosa, di questa donna, con la bocca cuscita, dal fisico deperito che la insegue, che l'accompagna nel corso della sua esistenza, e che l'aggredisce tutte le volte. E qui sembra che, appunto, l'elemento orrorifico sia caratterizzato dalla presenza di questa sorta di demone che perseguita la nostra protagonista. Invece il film cambia direzione, gioca con lo spettatore, il buon Pascal Logé ci fa credere a delle cose, ci inganna e poi ribalta completamente la situazione, perché sino a quel momento, sino a quando ci troviamo nella casa, e partiamo quindi dall'inizio del film per arrivare alla casa, la protagonista sembra essere a tutti gli effetti il personaggio di Lucy, che dovrà combattere con questa presenza inquietante che la taglia, l'aggredisce ogni volta che può. Anna sembra più che altro un comprimario, però, ad un certo punto, quando noi capiamo chi è questa persona, l'immagine di questo demone, che cosa rappresenta, rappresenta anche il senso di colpa di Lucy, perché lei, quando era fuggita dal mattatoio, aveva visto in una di queste stanze questa donna legata, anche lei devastata, nel fisico e nella mente, con la bocca cuscita, che lamentandosi e con gli occhi imploranti chiedeva di essere liberata anche lei, però, insomma, Lucy ha dovuto fare un gesto estremo, ha dovuto fare una scelta veramente dolorosissima, lasciare questa persona nell'edificio per poter fuggire, per potersi salvare. E questa è un'immagine che le è rimasta negli occhi e, diciamo, che la figura di questo demone, di questa presenza, non è altro che l'incarnazione è un'allucinazione, innanzitutto, cioè la vede soltanto lei, questa presenza, ed è l'incarnazione appunto del suo senso di colpa, della sua depressione, dell'autodistruttività che le è stata praticamente inculcata, l'autodistruttività che nasce appunto da questo trauma che non è mai stato superato e che neanche la vendetta riesce a farle passare. Infatti, alla fine, insomma, questo personaggio, quasi a metà del film, un pochino prima della metà del film, compie il gesto liberatorio definitivo. Si suicida e a quel punto, grazie a questo espediente iccocchiano, il personaggio di Anna diventa il fulcro della vicenda, o quantomeno diventa il personaggio principale che viene caricato di una nuova responsabilità, di una nuova attenzione da parte della macchina da presa e da parte dello spettatore, chiaramente. La storia da quel momento ha un'ulteriore svolta, il film è fatto di momenti che sono scioccanti, momenti di svolta veramente repentini che però sono perfettamente funzionali, nel senso che noi abbiamo la fuga, abbiamo poi quando il personaggio di Lucy si trova nel letto e comincia a fare i conti con la sua esperienza tremenda, con il suo demone interiore appunto, ecco che vediamo comparire questa presenza che l'accompagnerà nel corso della sua vita proprio ai piedi del letto e che l'aggredisce. Quindi quello diciamo è un momento in cui in seguito capiamo che la depressione, il trauma, il senso di colpa, eccetera, cominciano a perseguitarla in modo veramente peso sotto forma di allucinazione. Poi quando entriamo nella casa abbiamo dopo una descrizione praticamente idilliaca di questa famiglia, di questo nucleo familiare all'interno di questa bella casa abbiamo il primo colpo di fucile, la prima botta che investe il padre di famiglia e lì diciamo abbiamo una svolta che è totale, cioè è totale perché lo è dal punto di vista sonoro lo è dal punto di vista visivo lo è dal punto di vista narrativo tutta la situazione che sino a quel momento era stata costruita viene completamente distrutta deflagrata dall'irrompere in scena della violenza che sino a quel momento era più che altro suggerita e documentata perché c'è questo falso documentario che viene realizzato sulla vicenda di Lucie e del rapimento di queste altre persone e il tutto viene più che altro raccontato e suggerito in quel momento la violenza irrompe col botto proprio nel caso di dirlo in scena e lo spettatore diciamo ha il primo vero shock perché diciamo che la presenza sì è un momento spaventoso però la sua entrata in scena era già stata abbastanza anticipata con movimenti di questa figura indistinta con i suoni cioè tu capisci che sta per avvenire qualche cosa e qui quando vediamo la scena di questa donna martoriata che si avventa sulla giovane Lucie che è a letto te l'aspetti che succeda una roba del genere quando invece il padre di famiglia apre la porta e viene investito dalla fucilata quella è una cosa che assolutamente non ti aspetti ed è funzionale perché oltre a spaventarti a scioccarti a prenderti completamente alla sprovvista ti incuriosisce ti porta a seguire quello che sta avvenendo in scena quindi i colpi di scena i cambiamenti le svolte improvvise della trama sono piazzate in modo preciso in modo estremamente funzionale non sono cose buttate lì a caso quindi la fucilata l'irrompere anche in questa casa della presenza demoniaca il suicidio di Lucie con la spiegazione attraverso le immagini attraverso le immagini cioè non ci sono degli spiegoni fatti di parole ma ci sono delle rappresentazioni che chiariscono quello che è lo stato d'animo del personaggio quella che è la presenza di questo demone che la sale ogni volta e spiegano perfettamente perché ad un certo punto il personaggio di Lucie arriva a compiere il gesto definitivo del taglio della propria gola e quindi del suicidio e nel momento in cui sembra che la storia insomma stia finendo quantomeno lo spettatore si chiede beh adesso cosa rimarrà rimane semplicemente il personaggio di Anna che ora dovrà coprire le tracce dovrà piangere sicuramente la sua la sua amica barra amante perché comunque Anna tutto quello che fa lo fa per amore di Lucie quindi anche certi suoi comportamenti che vediamo nel corso del film sono giustificati da questo sentimento molto forte da questo legame che unisce le due le due donne e invece nel momento in cui sembra che Anna stia per uscire dalla vicenda e quindi sembra che tutto stia per concludersi ecco che casualmente lei scopre un'altra parte della casa scopre qualcosa che sta sotto qualcosa che fino a quel momento era rimasto nascosto sia dal punto di vista fisico ma anche proprio dal punto di vista della storia noi abbiamo visto solo una parte della vicenda la vicenda è molto più grande molto più spaventosa di quella che può sembrare ed è qui che capiamo che il film non è assolutamente un torture porn non lo vuole essere perché comunque non ci vengono mostrate che ne so in flashback le scene di tortura che ha subito Lucie assolutamente il film non si sofferma su questo il film ci parla di altro ci parla della psicologia dei personaggi ci parla dei loro traumi ci parla delle conseguenze ma non vuole soffermarsi assolutamente sulle sevizie e quant'altro quello è più che altro suggerito e ci verrà mostrato in seguito però sull'altro personaggio sul personaggio di Anna non su Lucie la vicenda di Lucie si chiude ed è diciamo la punta dell'iceberg il resto viene scoperto da Anna infatti lei casualmente scopre un passaggio che porta ad un seminterrato poi c'è una botola e quindi si scende ancora giù e c'è questa sorta di bunker praticamente dove ci sono delle immagini terribili spaventose che inizialmente noi non capiamo non ne comprendiamo il significato pensiamo che appunto fosse diciamo il luogo dove la famiglia o quantomeno i due coniugi sadici pazzi assassini e torturatori perpetrassero insomma le loro nefandezze ai danni delle vittime e che godessero appunto di queste loro attività criminali anche attraverso il compiacersi del vedere queste immagini spaventose di persone che sono mutilate sofferenti insomma delle cose veramente spaventose e lì in fondo la nostra Anna scopre la presenza di un'altra persona di una persona che era lì reclusa che lei vuole aiutare ed è giusto anche questo perché Anna è animata da uno spirito altruista è una persona molto umana questa ragazza e quindi aiuta quest'altra donna di nuovo anche lei è estremamente deperita con delle mutilazioni pazzesche con con questo marchigegno insomma questa questa specie di casco con una visera in metallo che è stata addirittura inchiodata al suo cranio insomma una roba allucinante nel momento in cui sembra che il film ci voglia mostrare un nuovo rapporto di assistenza di aiuto nei confronti di questa persona che chiaramente insomma è anche lei traumatizzata e resa folle dalla violenza che ha dovuto sopportare ecco che abbiamo bang un altro colpo di fucile la ragazza che stava avendo una una crisi isterica poverina comprensibilmente si stava tagliando tutta anche lei quindi di nuovo il corpo che viene martoriato ecco che le sparano in testa e in casa entrano queste persone vestite di nero armate che lì per lì uno dice ma chi è questa gente è la polizia uno pensa magari è la polizia qualcuno ha chiamato la polizia e invece non è così scopriamo che queste persone fanno parte di un gruppo occulto di una setta che rapisce le persone per poter trovare i cosiddetti martiri quando arriva quella che viene considerata probabilmente l'elemento di spicco di questo gruppo di torturatori spiega al personaggio di Anna che viene imprigionata qual è il senso di tutta la loro operazione di tutta la loro ricerca loro prendono le persone le torturano le massacrano le portano alle soglie della morte ma non è che le vogliono ammazzare è così perché gli piace loro vogliono trovare qualcosa di molto specifico sostanzialmente questa donna detta mademoiselle interpretata da Catherine Baggin spiega che il mondo si divide in due categorie le vittime e i martiri le vittime sono persone che soffrono che chiaramente rimangono traumatizzate la loro psiche viene sconvolta dall'esperienza che vivono che sono costrette a subire possono avere delle allucinazioni perché alla fine impazziscono ma rimangono soltanto vittime perché non raggiungono uno stadio superiore della mente e dei sensi i martiri invece sono quelle persone che attraverso il dolore possono raggiungere la cosiddetta esperienza premorte cioè riescono a vedere ciò che c'è al di là della sfera del sensibile riescono ad approdare con la mente all'aldilà in sostanza è questo quindi i martiri sono sostanzialmente il ponte fra questo mondo e la vita dopo la morte ed è questo il senso della loro ricerca loro sono dei fanatici religiosi che vogliono scoprire cosa c'è dopo la morte e i martiri sono quelle persone che possono vedere e poi raccontare ecco perché non bisogna ucciderle cioè l'arte se così vogliamo dire della tortura per queste persone consiste nell'infliggere un dolore talmente grande che consente a queste persone di trascendere proprio di arrivare a compiere una trasmutazione che li porta a vedere la vita dopo la morte e poi possono ritornare perché non muoiono raccontare appunto quello che loro hanno visto una cosa semplicemente pazzesca allucinante che nessuno si sarebbe mai aspettato considerando le premesse del film e quello che ci è stato raccontato fino a quel momento ma ecco che lì abbiamo un altro momento di svolto un altro momento di shock perché ad ascoltare le parole deliranti ma che hanno una comunque una loro logica cioè la cosa che veramente ti mette paura della spiegazione che fa mademoiselle ad Anna è il fatto che questa gente è chiaramente folle psicopatica criminale ma c'è una logica sotto che è innegabile e questi sono veramente come dei nazisti cioè folli ma che hanno una logica razionale di fondo è pazzesco ecco la scrittura qui veramente forse raggiunge il punto più alto di tutto il film e in quel momento noi ci rendiamo conto che Anna è finita nella rete di un gioco che è veramente enorme è finita in qualcosa di veramente più grande di lei ma soprattutto è finita in una trappola da cui non potrà mai uscire questo è sicuro ed è veramente angosciante il film questa angoscia te la trasmette non solo perché il tutto comunque è ambientato principalmente in delle location chiuse l'angoscia non ti arriva soltanto grazie ad una fotografia che diventa sempre più cupa e ogni volta che abbiamo la presenza della luce si tratta di una luce estremamente fredda assolutamente non salvifica e anche grazie ovviamente all'interpretazione la regia che con queste inquadrature strette ravvicinate un po' alla alien riescono a farti veramente mancare l'aria oltre a tutti questi accorgimenti oltre a tutti questi spedienti c'è proprio la costruzione della situazione attraverso la spiegazione di questa persona che fa capire che per il personaggio non c'è nessun tipo di speranza cioè sai che lei è segnata non ci sarà modo per lei di fuggire anche perché le viene detto quando fuggì Lucy al tempo anni fa non eravamo ben organizzati ora invece abbiamo fatto il salto di qualità e quindi Anna non potrà mai fuggire da quel bunker e da quel momento è una successione di scene intervallate da delle sfumature sul nero lì si vede proprio che il montaggio è un po' più spezzettato anche se la sfumatura sul nero secondo me contribuisce a legare le varie scene i vari spezzoni e ti dà comunque l'idea di un incedere faticoso di qualcosa di veramente sofferto è una vera e propria via crucis quella che percorre il personaggio di Anna sino al momento finale sino a quando lei viene insomma considerata pronta per il salto finale per il momento del martirio cioè quando praticamente lei viene legata scuoiata ovviamente senza anestesia e lasciata lì a morire ma più che altro a soffrire perché è la sofferenza il mezzo che ti deve portare a quello stadio mentale superiore a detta di questa setta di folli e alla fine Anna personaggio che di suo era portata all'altruismo all'aiutare il prossimo probabilmente in virtù anche di queste caratteristiche lei alla fine si fa carico di tutta questa sofferenza enorme che lei sta provando e trascende effettivamente lei entra in uno stadio mentale diverso e sembra vedere effettivamente l'al di là poi non si sa se si tratta anche nel suo caso di allucinazioni dovute anche alla suggestione per quello che le è stato raccontato o comunque spiegato da Mademoiselle ma sembra che lei effettivamente riesca a vedere oltre la luce oltre il velo della morte e alla fine lei questa cosa insomma racconta sembra raccontare effettivamente qualcosa a Mademoiselle che quindi scopre l'arcano scopre il mistero della vita dopo la morte ma il problema è che la verità è talmente scioccante che lei non riesce a sopportarla e nel momento in cui tutta questa setta si riunisce questi ricconi si ritrovano in questa in questa abitazione per sapere insomma che cosa la martire ha rivelato ecco che Mademoiselle si rinchiude nel bagno e si uccide si spara in testa e quindi il segreto se lo porta con sé quindi beffa maxima hanno trovato una martire evento estremamente raro e non hanno potuto sapere nulla di che cosa c'è dopo la morte chiaramente il finale è beffardo giustamente nei confronti di queste persone schifose però anche è qualcosa di insomma molto molto amaro molto molto dolente perché da ultimo insomma vediamo la povera Anna senza pelle eccezione fatta per il volto e anche lì è molto importante perché è attraverso anche la sua espressività che possiamo capire che il personaggio è entrato in uno stadio mentale differente in un certo senso superiore che appunto rimane con questo sguardo perso nell'infinito forse la morte sopraggiunta e lei è una delle altre persone che sono state martirizzate e le cui immagini noi avevamo visto precedentemente quando lei era entrata nella sala della segregazione e della tortura e i titoli di coda sono veramente molto belli e sono anche commoventi perché sono praticamente dei filmati amatoriali di quando Lucy e Anna erano piccole erano sorridenti forse anche spensierate insomma quando ancora vivevano la loro giovinezza ed è tutto distrutto insomma la vicenda ci ha fatto vedere che quelle ragazze sono morte nella maniera più tragica le loro vite si sono infrante nella maniera peggiore possibile quindi un film che non è assolutamente consolatorio in nessun modo un film dove tutto si lega perché ogni cosa che noi magari abbiamo visto all'inizio e che ci sembrava qualcosa siamo costretti a guardarle in una maniera diversa una prospettiva differente e tutto ciò che inizialmente ci era sembrato poco comprensibile scioccante ma ancora non capibile ecco che ha senso cioè nel corso del film ci vengono dati poi tutti gli elementi per comprendere perfettamente ciò che abbiamo visto sino a quel momento e tutto si lega il film è perfettamente legato perché tutti i vari elementi non ci vengono spiattellati presentati come già pronti e fatti no c'è una frammentazione ci sono tanti indizi tanti dettagli disseminati qua e là per il film che poi vengono messi insieme il mosaico si ricompone grazie alla visione completa del film e questo porta lo spettatore a interessarsi porta ad essere coinvolto dalla storia e dalle vicende di questi personaggi quindi un film che dal punto di vista tecnico credo che abbia dei valori veramente importanti anche l'utilizzo della colonna sonora del commento musicale è tutto molto puntuale il trucco tutto è veramente crudo credibile e soprattutto il film è multiforme cambia pelle in continuazione e riesce ad essere sorprendente sino alla fine perciò veramente un'opera di grande valore che gioca con i generi come vi ho detto si presenta come un torture porn poi in realtà prende una piega completamente diversa sembra essere un film dove ci sono le presenze gli spiriti i demoni che perseguitano uno dei personaggi è un revenge movie è un home invasion e poi invece scopriamo che sostanzialmente è un body horror veramente tremendo e disturbante ed è un horror puro questo perché veramente ti entra dentro e non ti lascia più è uno dei film più scioccanti e sconvolgenti che io abbia mai visto perciò ve lo consiglio fatemi sapere che cosa ne pensate io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto commentate condividete e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti